giorno di quarantena 32 tutto sommato sinceramente mastigazzi in casa si sta anche bene poi io sono anche fortunata c'è il giardino c'è il terrazzo posso scendere a portare giù il cane un attimino quindi non è male quindi insomma 32 conti ma giorni ma chi li conta no chi li conta perché alla fine di tutto questo non è che pesi stare in casa è la libertà che mi manca quella cosa tipo aspetta che vado a fare un aperitivo con le amiche o che magari non ci voglia andare però è una scelta invece questa cosa che non è una scelta ma è questo e pesa ma la cosa che a me in questi giorni sta facendo impazzire le mascherine perché adesso sta per arrivare questa fase 2 cesta per arrivare sono speriamo perché qui siamo passati da 3 aprile e 19 aprile 3 maggio è un attimo che poi essi però il 2 giugno la festa cosa non possiamo rischiare assembramenti c'è la festa la festa è la giornata internazionale dello possum è un classico ritrovarsi per la festa nazionale dello possum quindi è un rischio quindi io a gennaio siccome sono io non sono paranoica però insomma un minimo detto vabbè gennaio detto se parlava di questa cosa in cina fatto sta a vedere che magari non arriva anche qua quindi ho comprato una mascherina di cotone di cotone è bella la doppio strato poi copre proprio bene bene no poi figa ne avevo comprate 3 una l'ho regalata e le altre due una l'ho modificata perché poi quando a un certo punto invece perché non la stavo ovviamente utilizzando e quando arrivata la sto problema effettivamente arrivata anche qua ho ho letto che non andava bene perché mancava bisognava non proteggeva quindi che però funzionava la carta forno aveva senso perché in fin dei conti la carta forno e non permette la traspirazione quindi avevo scucito qua e messo la carta forno l'uso lavoro di merda poi tutti quanti non serve a un cazzo che poi adesso hanno ricominciato a fare i tutorial con le mascherine carta forno non si capisce se serve a qualcosa comunque nel dubbio cioè le uso per la torta un problema invece a me no ma metti l'assorbente interno dentro io ce lo metto alla fine lo cambio tutti i giorni tanto ormai uso la coppetta mestruale si salva si pensano più un cazzo e poi sono riuscito ad accaparrarmi dal dall'irlanda su ebay una mascherina le ffp2 perché le fp3 non era possibile allora ho comprato ero orgogliosissima della mia ffp2 e lo compro adesso ed è anche un po complicato da posizionare però in realtà ci se la fa con un attimino di di pratica e dopo aver messo questa cosa scopre che noi che usiamo queste mascherine quindi siamo delle teste di cazzo siamo delle teste di cazzo perché proteggono noi ma non non proteggono gli altri perché da questa da questa valvolina esce tutta la spudazza quindi vaia quindi dovremmo girare tutti quanti con le mascherine chirurgiche perché invece le mascherine chirurgiche proteggono il mondo da noi ora permesso che io sono stata a contatto col cane con i miei che non escono di casa vado a fare la spesa alla metro stando a dieci io sono una persona meno a rischio perché già c'ho qualche deficit mio di prossema c'ho qualche problema psicologico con la prossemica quindi già da prima se mi stavi a meno due metri mi stavo mi prendeva l'ansia quindi stavo distante io in fase 2 inizio a litigare perché io appena mi si avvicina qualcuno a meno di tre metri inizio a mandare a fanculo perché prima non potevo e lo pensavo adesso non andrò veramente a fanculo quindi in pratica dovremmo usare tutta nella fase 2 non a caso mi pare che sia che per froid fosse quella anale che qualcuno sa anche piacevole ma insomma diciamo che dire sei un dito nel culo è per dire che se è una cosa fastidiosa dovremmo girare con le mascherine chirurgiche tutti quanti ma a parte il fatto che sta cosa qua è brutta di però dicono che questa qua è quella altruista perché se noi siamo malati non si ammalano agli altri io però non sono tanto altro cioè della serie si sarei anche altruista se lo usassimo tutti saremo anche al sicuro ma va un pochino e moe tumare perché magari oggi domani è pasqua e io sono stata a casa e tu sei quello stronzo che invece si è trovato in bosco lo stesso con gli amici ha fatto la grigliata e io sono altruista non metto la metto la mascherina chirurgica per non infettarti io ero a casa e tu magari brutta testa di minchia che riaffarti la scampagnata e fatto la grigliata coi civa invece va in giro magari con quelle la mascherina degli stronzi quindi che proteggete da me che ero a casa quindi io ci metterei anche la mascherina degli stronzi sopra perché della serie con questa proteggo te dal nulla perché io non ho rischiato nulla con questo proteggo me dagli stronzi però però non si può guarda che è brutto e quindi con questa invece rendiamo tutto quanto più bellino e quindi io non so voi ma io per la fase 2 sono pronta